SONO STATE TAGGATE A LE 2.39 PRECISE DI QUESTA NOTTE SULA BACHECA DI CAROLINA CAPUANO MA TAGGATA CRENA, MALA PAROLA, CRETA CRENA VUOL DIRE CHE QUALCUNO HA INSERITO QUESTE FOTO NEL PROFILO DELLA RAGAZZA CONO SCOPO MOLTO EVIDENTE CI ARRIVIDA SOLO POCHE TE LO SPIEGO MA CHE NE SO IO CHE NE SO, PER METTRE GIZZANIA BRAVO MA NON CREDO PER NON, PER NON FAR CELEBRARE IL MATRIMONI FRA CAROLINA E SAVEIO UNDOVINATE MAMMA MI CUIERTE CHE NON HA CAPE ESGGERATO UN INDUITO AL DI SOPRA DELLA NORMA SI ME STAIS FUTTENI TI FACCIO RINCHIUDERE IN UN CONVENTO SENZA CAMPO E SENZA INTERNET TUTTO COMPRESO VOGLI RE CUOMO CAMPA VOGLI RE ALLO L'INDIVIDUO CHE AVREBBE INSERITO QUESTE FOTOGRAFIE TAGGATO POTREBBE ESSERE LA STESSA PERSONA CHE LE HA SCATTATE POTREBBE ANCHE ESSERE MA CHE DEVO SAPERE IMMEDIATAMENTE CHE HA SCATTATESI FOTOGRAFIE MA CHI VUĘ CHE SIA GUGLIERMO CARO SEMPLICEMENTE PAPARAZZI SUA SANTITÀ IN PERSONA